Ciao a tutti ragazzi da Corrazzunto9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video Mi eravamo già mangiato, 14 secondi No, allora, innanzitutto non vedete la partita che abbiamo fatto con gli iscritti Perché sinceramente, tipo, serve durata il continuo, diciamo così, della partita Altri 5 minuti Poi voi siete andati avanti probabilmente, da quello che ho capito Ma io ero andato avanti solamente altri 5 minuti La puntata è stata troppo corta, eccetera, eccetera E comunque non succede praticamente niente Poi mi è finita anche la memoria del computer addirittura Perché sembra di no, ma in realtà Hager consuma abbastanza Quando dico in termini di memoria, quando registri E quindi vabbè E cosa succedeva? Niente Praticamente arrivavamo poco più del nostro punteggio Se non sbaglio eravamo arrivati ai 7900 E poi qualcuno, simpaticamente, proprio del team 0.9 Vabbè, mi ha fatto esplodere e poi mi ha anche mangiato Vabbè E comunque Poi dovevo ripetere, vi si discorsi qua ragazzi Di uno Sarà un minimo 1500 Quello lì, minimo Va a mangiare uno di, cosa ero io? 100? C'è un qualcosa di incredibile E vabbè Comunque La cosa importante ragazzi Che devo dire oggi A parte questa cosa qui Che vi ringrazio appunto Del vostro supporto E della vostra presenza Nello scorso, diciamo, evento Vi invito Mamma mia, cosa è successo lì? Vi invito A ragazzi Un prossimo evento Che sarà stasera Alle 9 Quindi ragazzi Vi aspetto stasera alle 9 Mi raccomando Tutti presenti E stavolta però Vorrei dire Certe cose ragazzi Quindi mi raccomando Siete attenti Perché devo dirvi Delle cose molto importanti Allora Che vuoi tu? Cucu Che vuoi? Allora Innanzitutto Ripeto Per Ehm Penso a preso il feed Vabbè Per partecipare ragazzi Bisogna mettere Mi piace al post Che metterò su facebook Stasera Poco prima delle 9 Proprio Neanche partecipano I commenti Proprio scrivere soltanto Cioè scusate Mettere soltanto Al mi piace al post Quindi ragazzi Mi raccomando Mettere piace al facebook E poi al post Che metterò Chi partecipa Che mi piace Tutte cose del genere L'evento Per così dire Il nostro è partito Su un server party Metterò il codice Appunto in quel post Di facebook La cominciamo Verso le 9 Magari un paio di minuti Prima facciamo Una specie di scaldamento Ovvero Stiamo un attimo Qui sul campo Cerchiamo di ingrandirci Un pochino E poi diciamo Dico queste regole qui Tanto il nome Deve essere Un nome diverso Da core Con poi il 0189 Per diventare Il team 0189 Quindi per esempio No Però c'è proprio quello Sbagliato Mettete il primo Che è jumbo Ecco Mi chiamate jumbo 0189 Ardi Ardi 0189 Questa è la regola Altre cose Allora ragazzi Stavolta Cercheremo di lavorare Più di squadra Ho risultato delle critiche Perché sono solo io Che voglio crescere Eccetera 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 Allora Vi farò Un discorsetto Allora Cercherò comunque Di lavorare più di squadra Comunque Avete visto che fidavo anch'io Quindi non ne so spiegarvi Però vabbè Ehm Che succede? Ehm Io cercherò appunto Di fidarvi di più Però sinceramente Io punterei Ad essere Io stesso Tra virgolette Il leader capitano Del nostro team Cosa vuol dire? Quello che deve avere più massa E cercare di far record Quello che Alla fine è agario Perché se ci pensi Se invece vuoi fare Non so Stare sempre a 10 Non è che 10.000 5.000 in tre persone Non si fa niente Sinceramente Invece magari uno Che riesce a Fare il salto incredibile Arrivare Che nabata Qua fotone nabata Io proprio Stavo parlando Non ero nemmeno troppo concentrato Vabbè Ehm E vici ragazzi Magari superare il record Il mio record 9.999 Praticamente E piacerebbe superarlo Quindi Io mi affido a voi Sperando appunto Mi possiate capire Non mi aveva preso ragazzi Non mi aveva mica preso qua Vabbè Vabbè Sperando appunto Che vi possiate aiutare In questo mio Desidevia Ehm Va bene E quindi ragazzi Chiudo a vostro aiuto Come Fidandomi Quando sarò piccolo Ma quando sarò grande Grande intendo Nella top 10 Ehm Mi fidate Per favore Non per forza Sempre Perché anche voi Appunto Come dicevo prima Lavoriamo più Comun team Quindi cerchiamo di essere Grandi un bel po Ma Ehm Appunto Come faremo Ehm Cercherete di Fidarmi solamente Quando sarò All'attacco di qualcuno Quindi cercate Non di Trovarmi in un unico posto Ma di gira O vogare ragazzi Per un bel po Di punti della mappa Ovviamente Se mi vedete Mi rimanete vicino Così faremo un gruppo insieme Io vi aiuterò Voi mi aiuterete Ehm Così da riuscire a scalare Il prima possibile La classifica Poi quando arriverò Si spera Primo Ehm Se potete Mi lanciate Ma non che Quelli appena nati Kamikaze Mi si buttano Perché non serve a niente Quelli un po' più grandi Quelli ottavo Nono Ma anche il secondo Perché non avrebbe senso Altrimenti Man mano che qualcuno Arriva al secondo Si butta su di me Diciamo Poi come ricompensa Tipo Allora cosa faremo Quando io finirò La distrazione Quindi una mezz'oretta Dopo aver cominciato Spero Se riusciamo In fretta Diciamo Ad arrivare A quello In cui voglio Guardate quanta gente Che c'è Quanto la massa C'è qua Più Se ci splitta È un nabo Nero male E appunto Ragazzi Per arrivare In una mezz'oretta Ehm Primi Superando i diecimila Spero Questo è il mio obiettivo Come fate voi per aiutarmi Allora non solo mi giro Vagate intorno Come un macerini Ragazzi Perché quello è cesso Un pochino Un'altra volta Non è che mi serva molto Perché io Non riesco bene anche più A muovermi Così quasi Perché non vorrei mai Mangiarvi ovviamente Cosa dovete fare Dovete cercare ragazzi Di far esplodere Gli altri Quelli ovviamente Non 0189 Non battagliate Fra di voi E non battagliamo Me contro di voi Mi raccomando Fare esplodere gli altri E cercare di mangiare Il più possibile Voi e me Quindi cioè Voi Far mangiare voi E far mangiare me Ecco no Perché se no capite male E Quindi spero di essere stato chiaro Vedete uno grande Non sapete Adesso Vedete nella mappa Che Uno squeezy Per dire Voi Tac Fate riempire Le palline verdi E queste qua Intendo Queste finate Spine farrazzo Per dire E E Far esplodere gli altri In modo tale Da ingrondirci E far Diminuire gli altri Così siamo Alla grande Proprio ragazzi Vabbè Oh mio dio Questo chi è Voglio risolvere il nome Qual è il tuo nome È jumbo È jumbo il primo E vabbè Quindi ragazzi Mi raccomando un gran lavoro Di squadra Aiutatemi Fiddandomi Io vi fidzerò E aiutandomi Soprattutto facendo esplodere Gli altri E cercando di starmi vicini Quando farò degli attacchi Quindi queste Sono diciamo Le regolette Insieme a quelle di Non mettere parolacce Le robe varie Cose Diciamo Da censura Come Nome E con Il 0189 Vicino Ok Quindi Queste erano le regole Ragazzi Questo era L'evento Ripeto Stasera Quindi proprio Oggi ragazzi Stasera Le nove Vi aspetto Tutti sulla pagina Facebook Vi darò il call E tutto quanto E noi ci vediamo i commenti Stasera ci sei Stasera ci sono Le nove E E va bene Quindi Chiedetemi Qual è il party Non trovo Il server Il server Il server Vi darò Stasera Il server Ragazzi Le nove Mettete mi piace La pagina Facebook Mi raccomando E Qua facevo Il colpaccio Per pochissimo Tu che vuoi Non mi mangi Porca miseria Odio che ti inseguo Così Pensando di poterti mangiare E va bene Ok Quindi ragazzi Mi racconto Carichissimi Stasera Purtroppo Non possiamo avere In speak Quella roba Però Facciamo come se Ci parlassimo Come se fossimo In telepatia Fra noi Ragazzi Mi raccomando Vieni aiutatemi Io vi aiuterò Facendo esplodere Gli altri E Soprattutto A Shalvin Che ricordi All'arsenal No Non ero Lontanissimo Vabbè Facendo esplodere Gli altri E fidando a me Così ragazzi Come se fosse un capitano Ma dovemmo raggiungere La vetta Grazie a me Solamente perché Voi mi aiutate Quindi io riconosco Ragazzi Vi saluto sempre Perché sono io Che registro Non avrebbe senso Far vedere ogni volta Che muovi ragazzi Così E muore E muore E muore E no Quindi dovete cercare di aiutare Appunto fidandomi Per riuscire a battere il record Insieme Avete capito Questa è un'opportunità Che vi do Non opportunità Avete fortuna Di fare questo Mi intendo Se potete giocare insieme Questo è il Il modo Diciamo così Per riuscire a giocare un po' insieme Perché altrimenti Non voglio fare preferenze Tutto il resto In tutto questo Vi ringrazio Vi saluto Ragazzi Me la fanno spolliciata Iscrivetevi E commentate E noi ci becchiamo stasera Allora ragazzi Con l'episodio di Hager E poi Prossimamente Appunto Domani Dopodomani Vedete tutti i video di Hager Di fila E finiremo Penso verso il trentesimo episodio Verso fine mese Ciao ciao ragazzi